Io sono in un periodo complicatissimo della mia vita per cui non posso pensare alla politica C'ha ragione signora, uno ha pure i fatti suoi e deve pure pensare a questo E scusi il tempo, mi sono distratta Prende il tempo la signora, il direttore del tempo sarà contento No ma me l'ha cambiato il tempo, non mi piace più Come signora? È brutto, vero? È brutto, è scurito Ah il tempo dice qua, sì No anche il tempo fuori, io sono andata froncata con la mano Noi andiamo a fare la nostra rassegna signora con quel coattone di Cesare Allora siamo pronti, via, cominciamo Repubblica, la battaglia di Banca Italia Arriva teccio Sì, 14 novembre signora La battaglia su Banca Italia, sai che vogliono cambiare Draghi con uno che si chiama Bini Smaghi Ma chi è? Poi c'è la vitola al vertice con l'Albania, la foto smentisce Frattini E' nata la figlia Già così? Sì, il Carlebro ne abbiamo detto prima Andiamo avanti su Ma che parli te? Ma questo cazzo di Banca Italia, ma chi è? Quello che dovrebbe prendere il posto di Draghi Questo è carino, dai Mutuo alle giovani coppie, solo online Ipotesi concordato fiscale Ah fanno un altro concordatino? Ma è proprio le giovani coppie andiamo avanti questa me sono cazzato perché questa lo sai chi è ora mi sono acculturato questa è quella che è morta in Germania quella calcata con tutto il duemila euro ma dai è una presa per culo che vergogna vabbè andiamo avanti diciamo che i benzinai scioperanno tra un po' sciopereranno 15 giorni di sciopero davvero e perché? perché esattamente non lo so scusa Rosà ma io vorrei sapere una cosa però adesso lo vedremo si vorrei sapere una cosa ma il petrolio adesso sta 80 dollari quanto sta? appunto ma perché costa così la benzina? allora per quello sciopero i benzinai vai hai visto che abbiamo trovato? eccolo qua ora contatevegli sfascia banche chi è questo? l'indignatos individuati gli autori della salta all'istituto di mia capura a Roma per i complottistici era un infiltrato invece era un cronista del nostro giornale senti questa notizia il magnate della pizza sfida Obama un pizzaiolo e vai e vai questo vince la pizza la pizza è buona poi abbiamo ecco qua facciamo questo la questura negli scorteo abbiamo già fatto faccia ragione Rosario scusa abbiamo già fatto andiamo avanti no siamo a 2.37 devo chiudere scusa una cosa facciamo l'appendice fra un minuto ciao ciao ciao